come si fa? come si fa zucchero filiato? se si, non viene subito, quasi una tripla eh, troppo, troppo, troppo ecco, bravo un momento, per favore no artista meglio ah, video, video vuoi che te lo spedisca? hai la mail? no c'è un video, un video guarda, Simone 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 e su Youtube diventerà come si mangia le Youtube papà no 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 no